Siamo arrivati a un'altra notte, passatello, sennò lei non è mai stato, o la c'era, o quello qua che c'era. Siamo arrivati finalmente a una ragazza un po' più semplice, una ragazza un po' maschietta, infatti la babbocca è questa qui, e a chi può essere? Il gatto morto chi è? Chi è? Indominiamoci. Gianburrata. Gianburrata! Non lo sapete? Bene? Non fatevi mai raccontare la finale del film. E' un bruttino. La canzone. Permettetemi, perché questa è la canzone che chiude la prima parte del nostro spettacolo, e per i video vintage non finisce qui non preoccupate, ma anche se è una canzone vintage, io ho voluto attualizzare un po' il testo. Per questa canzone ho bisogno di una cosa. Indominiamo. Che cos'è? Non si vinceva nulla. Allora, lei chiedeva sempre di darle qualcosa. Che cosa le dovevano dare? Non me lo dico. E tu non lo sai. Il martello. Brava! Quando io dico, datemi un martello, voi dovete rispondere... Che cosa le dovevano dare? Che cosa le dovevano dare? Altre? Anzi, datemi un martello. Datemi un martello. Che cosa le dovevano dare? Così non me lo dico. Pure voi, mica se ne sono errati. Datemi un martello. Che cosa le dovevano dare? Eh, datemi un martello. Che cosa le dovevano dare? Formarti il ruolo che mi dico. Bene. Bene. Eccoci. Maestra. Eccoci. Eccoci. Tanto grazie a lei da capo. Un plavo da città. Perfetto a lei. Grazie. 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 Grazie.